E' un lettore musicale e ad alta fedeltà. I ragazzi infilano il loro... Sapete cosa? Nella vagiporta. La ventola, poi shakerai il loro... Beh, sapete cosa? L'abbiamo testato a lungo. Qualcosa da dire? Ah. Oh no! No, 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 no! Ah, accidenti morde. Non potrebbe essere più esplicito di così. Boom! Obbligo a verità? Obbligo. Vedi quel bambino cieco? Spegni le candeline sulla torta prima di lui. Grazie a tutti.